no è finita la canzone stava benissimo cosa sto? hai ucciso con le macchine povero uomo ma come? hai fatto un frontale non neanche visto io dal mio e cosa sto vedendo? uuuu ti devo colpire con la macchina ecco uuuu di c***o vabbè cosa sto vedendo cosa sto vedendo io ti vedo rimbalzare tipo di vento si io ti vedo anche io e mi rimbalzo in ritardo per causa tua ti sto spingendo la macchina e sei sparito questo è il vero magic lag altro che dove sei? dove sei? la macchina fantasma siamo in live comunque giustamente questo è il vero classic magic lag e vabbè ma arriva in fondo dopo dopo devi rivederla sto sto vedendo e welcome to the party non riesco a prenderla non riesco a colpirti non ci sei non ci sei dov'è? ehi dentro il bosco dov'è? ehiui fai per me per me un casino ehi non è possibile ehh le macchine spariscono si colpite altro che ehi VABE il video definitivo su gta 5 cosa sto vedendo e dropping lag dove sei? sono tornato a posto? che succede? com'è che non sparisci più? non ne vede? oh adesso si ventiiiuree gli orari eeeh ventitreee gli orari eeeh un uomo necessita di 3s con la barra e mezzo coffing pensano che ci siano questi cheater eeeh cheita e tarzan sarò io con il mio magic lag stai riprendendo alla gara che strano che cosa? aspetta aspetta provo a salire in macchina con te voglio vedere si fermi si fermi un attimo eeeh non mi investa oh vada voglio provare magico lag non stai laggando ma no ma te l'ho detto io non vedo di laggare sei tu che mi vedi laggare eh lo so ma io ti dovrei vedere laggare adesso sei ancora in coda per unirti alla sessione piena non è vero è un po' lenta questa m***a oh ci scusi non l'abbiamo fatto apposta ah ma l'ho uccito e vabbè e vabbè eeeh pensa bimbi metto in prima persona signor faccia di cane oiii hai tirato una facciata qua davanti e ti è andato a sbattere contro il muro io sto vedendo un cane con una giacca di pelle che sta guidando una macchina oh ci ha fatto il dito medio uccidila era lei? eh ok era lei eh ci ha fatto il dito medio uccidila così funziona non fermiamo niente è io da qua leggo dius center mettiamo musica gangsta no c'è johnny cash c'è johnny cash c'è johnny cash andiamo a conquistare il mondo con johnny cash andiamo qui nella politica generally e sta ballando c'è il cane che sta ballando rito sta muovendo la testa guardalo 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 ahahahahah sei tu il tuo personaggio che si muove a ritmo si 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 dopo un po' che non gli dai i comandi se vai sempre dritto inizia a muoversi a tempo di musica prova a farlo andare sempre dritto senza toccarlo non cambiare direzione cosa sto vedendo si inizia a lagare io non lo vedo non ne finisco non è un bello non è un bello mi vi cazzo vabbè c'è un buco Nel... Non me lo cosa ho visto! Non eravamo lì un secondo fa! Non è giusto! Mamma mia, cos'è? Eh vabbè, adesso... Sono visioni psichedeliche! Cioè... Non cade, è appeso! È appeso, non cade! Cosa ho visto? Deve voler sto registrando! Cosa ho visto? Era appeso per il culo! Alla macchina! Vabbè, cos'è quella roba? Quale cosa? Quale roba? Lì davanti, quella cosa arancione! Ah, e l'hanno messo prima i... I Cheaters che sono passati! Cosa di Cheaters? No vabbè, e quell'altra... Hanno messo... Hanno messo... Ok... No vabbè... Certo... Alla... La... Il frastica è il solo a 9000 però... Con questo lag... Cosa... Cosa? Cosa succede? Niente... Niente... 209 milio aie... Una persona brava potrebbe fare... Da dove è uscita la macchina? Una persona brava potrebbe fare un mixaggio tra il tuo lag e una canzone... Fai tipo... Tu 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 tu... Perché fai... Tu 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 tu... Io non ho tali competenze però purtroppo... Sì... Sì... Per quale motivo mi ha dato degli RP? Ma io sono... Perché hai perso la polizia... Ah... Eh sì... Ma non riguadagniamola subito per favore... Sto facendo niente... Ah... Ok... Perchè sei incontro la vetrina? No... No... Perchè sei sceso? Che succede? Dai... No 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 no... Ah no... Dobbiamo continuare il viaggio... Ah... Va bene... Continuiamo sto viaggio... Sì sì... Fai un attio... Come on... Non si sa mai... Deposito qualcosina... Ah sì sì... Faccia faccia... Prima che... Pischi ci scappa al morto... E perde... I... I denari... Ho detto... Metto un po' di musica... Ho detto Bob Seeger... Wow... A posto... Wow... E Pischi... Invita il colpo alla Pacific Standard... E' quello che dobbiamo finire noi... No... Non lo facciamo... No... Beh... Adesso direi di no... Aspetta... 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 Prendiamo qualche mezzo nuovo... Dai... Va bene... Allora... Vediamo... Possiamo prendere l'Insurgent... Giuse... L'Insurgent... No... Qualcosa di guerra... Eh... Perchè... L'Insurgent è utilizzato per consegnare caramelle ai bambini... Ovviamente... Ovviamente sì... Non lo so più... Sì... Caramelle esplosive a bambini morti... Però... Sono solo io... Allora... La rocchetta volta... Ti sto tirando calci in testa... Ah cacchio... Devo possedere un magazzino... Col piede che tra... Sono il piede che trapassa la macchina... E ti arriva veramente in testa... Ah c'è il saldo l'Insurgent... Quello con la torrezza... Eh lo so... L'ho preso... L'ho preso anch'io adesso... Ottimo... Don't leave me... Oh... Tutta la gente che vuole soldi... Aia... Togliano lo soldi... E... Sono quasi morto... No... Non si fa... Non si fa... A chi l'ha detto... Scusi... Scusi... A chi ha detto... Shitted... Cosa stai combinando? Sento il rumore di spy... Regolamento di Conti... Ah ok... Si... Ho visto Carlo Conti... Gli ho dato una regolata... Una regolata di Conti... Scusi... Ma lo sa che abbiamo una stellina? Come abbiamo una... Non sei entrato in macchina... Porca... Scusi... Andiamo... Vada vada... Buon uomo... Il lag ci proteggerà... Non ne... Non credo... Però... Ma scusi... Lei è stato morso da un ragno laggoso? Scusi... O da un cane... Probabilmente... Vista la faccia... Perché vogliono tutti i soldi, no? No... Corra, corra... Oh, la testa a ritmo di musica... Aia... Cosa? 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 Come se avevano due stelle adesso? Non capisco... Hai ucciso un poliziotto? Ah, davvero? Come? No, chiedo... No... Io vedo cose... Che voi umani... Che non state guardando la live non potete immaginare... Beh, è tempo di... Da dove è uscita la macchina della polizia? Ok, va... Ehi, va beh... Addio Ciao Ma secondo te, questo video lo metteranno nella modalità con restrizioni di YouTube? Assolutamente Ma come? Stiamo parlando di libertà, giustizia... Amore Sì, diritti ai gatti Mi raccomando, parla bene dei gay Sì Se no, ci denunciano Guarda, è uno lì, mettilo sotto Siamo in disaccordo, ci denunciano Ecco, questo è infatti, aveva tendenze un po' così Eh, si vedeva Guarda, te li indico col dito medio Guarda, hai... Siamo un po' incastrati No, questo è il magic lag più... Più magico, mi sembra Sì, che abbiamo un sessione Mi... mi scocciato di vedere quelli lì che sono soldi I diritti d'autore? D'autore Si fa così, guardi Allora, aspetta, aspetta, seguimi poi Ma io sto uscendo dalla sessione Ma sei ancora vivo La live Grazie a tutti di averci visto Buona serata